Allora, continuiamo con queste study all time, ripetizione di Otorino, e cominciamo a fare la vertigine dal punto di vista dell'impatto strumentale e non solo, diagnostico, patologico. Allora, quando noi parliamo di vertigine, parliamo di una condizione di oscillazione del paziente, sbandamento, ed è necessaria anche la rotazione angolare. Ok? È un disturbo quindi dell'equilibrio, è un disturbo a carico del sistema vestibolare. Ok? Dunque, siccome il sistema vestibolare, come avevamo detto, è costituito da diverse strutture importanti, la vista, l'udito, l'olfatto, neanche, l'olfatto neanche, scusate, la vista, l'udito, il tatto, la propria eccezione, diciamo che un danno di questo sistema si può manifestare in diversi livelli, quindi è anche difficile cercare di comprendere le vertigini come qualcosa di esclusivo a livello vestibolare, se non per il fatto che le vertigini di natura vestibolare hanno un'intensità maggiore. E poi l'apparato vestibolare si distingue dagli altri apparati perché ha una unica funzione, gli altri apparati non hanno solo la funzione dell'equilibrio. Per cui da questo punto di vista è molto importante. Durante quindi la vertigine, durante una lesione acuta unilaterale, ci sono gli stessi fenomeni che un soggetto fa durante una rotazione sul piano orizzontale. Per questo è importante il discorso della rotazione. Perché ci colleghiamo al senso di rotazione, al movimento degli occhi compensatorio e all'atteggiamento antigravitazionario. La vertigine dunque verrà analizzata per il nystagmo spontaneo, per le deviazioni segmentotoniche e se per le informazioni legate alla posizione del capo e dei suoi movimenti. Da un punto di vista funzionale noi vedremo quindi una vertigine armonica che può essere deficitaria che è una forma più frequente rispetto alle forme irritative dove avremo una riduzione dell'attività tonica vestibolare. Nella sindrome vestibolare armonica la fase rapida, spontanea, che per convenzione ne indica la direzione diretta verso il lato funzionalmente prevalente, che è il lato sede di patologia nelle forme irritative e che è il lato sano nelle forme deficitate. Perché come giro la testa verso destra sarà correttivo il movimento saccadico verso destra. Avremo deviazioni del capo verso il lato deficitario e disallineamento quindi della linea immaginaria interpupillare quindi l'Ocular Tilt Reaction per abbassamento del bulbo oculare omolaterale al lato ipofunzionante OTN di congiunzione, quindi Ocular Tilt ed OTN non so che significa. Quindi da questo punto di vista cerchiamo di comprendere la natura appunto della vertigine. Quindi in questa condizione la vertigine intensa, la sindrome vestibolare armonica è tipica delle lesioni periferiche unilaterali acute, seppur più raramente delle lesioni a carico dei nuclei vestibolari del tronco vertebrale. Nelle altre forme, quindi quelle bilaterali o unilaterali a evoluzione progressiva o lesioni centrali, i sintomi sono atipici, sono sfumati, cioè qui parliamo di una vertigine di tipo disarmonico per le forme quindi bilaterali, periferiche, per le forme unilaterali progressive e per le forme centrali. Quindi qui avremo una lesione vestibolare acuta, può essere caratterizzata da un danno transitorio, un danno irreversibile, in rapporto a ciò noi avremo una disfunzione vestibolare che va incontro in guarigione in due modalità, cioè il ripristino della normalità vestibolare e il meccanismo di compenso. Nel caso del ripristino è perché siamo di fronte a una condizione di benessere, nel caso del compenso vuol dire che noi stiamo compensando un problema che ha avuto un danno irreversibile, perché ci sono dei modelli di riallineamento, di bilanciamento innescati dalla lesione acuta, per cui in questa maniera si riesce a bilanciare il tutto, spiegherebbe perché la sintomatologia poi vertiginosa sparisce. Gli eventi che quindi giungono uno dietro l'altro per determinare questo allineamento, questo bilanciamento, in successione sono nelle prime ore dell'evento acuto c'è una riduzione dell'attività funzionale del lato sano, soprattutto grazie al cervelletto, è una ridotta asimmetria tra i due lati che riduce la vertigine, poi subito dopo avremo una progressiva ripresa funzionale dei due complessi nucleari vestibolari piano piano, quindi il gioco lo fanno anche le connessioni crociate, questo piano piano permette di riprendere la funzionalità. Adesso nel caso in cui la lesione invece sia bilaterale o unilaterale evoluzione progressiva, quindi molto atipica, i disturbi non hanno caratteristiche di violenza e acutezza caratterizzate nelle forme periferiche o unilaterali acute. Nel deficit bilaterale non si manifesta la simmetria funzionale, la sintomatologia vertiginosa è conseguente alla mancanza totale dell'input vestibolare, riconducibile principalmente alla mancanza di movimenti rapidi del capo, quindi i sintomi principali sono le oscillopsie, cioè la difficoltà a mantenere la visione distinta a seguito di movimenti veloci del capo e durante la marcia. In caso di lesione unilaterale lentamente evolutiva il progressivo deficit della lesione si accompagna parallelamente alla compensazione, quindi questo spiega perché è un po' sfumata la sintomatologia. Quindi con questo cerchiamo di capire un attimo le vertigini e cerchiamo di inquadrare le vertigini come vertigini armoniche e disarmoniche. Le armoniche poi si suddividono in condizioni irritative o deficitarie, le disarmoniche sono condizioni o bilaterali o unilaterali progressive oppure condizioni del sistema nervoso centrale e sono di solito atipiche come condizioni. Le forme armoniche di solito noi cerchiamo il nistagmo, cerchiamo la relazione del, come si dice, le deviazioni segmento-toraciche. Ok, in funzione poi delle tipologie di vertigini, noi secondo la Parani Society abbiamo le vertigini interne, le dizzines, le vertigini vestibolo-visive, le vertigini posturali, quindi ne abbiamo diverse, quella interna dove tu stai ferma e la sensazione di sbilanciamento, le dizzines, che sono una sensazione alterata durante il movimento. Invece la vertigini interna è una sensazione alterata anche in assenza di movimento. Invece la vestibolo-visiva è una problematica di inclinazione, di inseguimento durante il movimento degli occhi, poi c'è la condizione posturale. Questo è proprio un discorso, discorso probabilmente proprio cettivo, cioè quella vestibolo-visiva è oculare, quella da dizzines potrebbe essere uditiva, come anche quella interna, quindi problematiche più prettamente vestibolari che periferiche. Sta di fatto che nella classificazione delle vertigini noi avremo quelle che sono le vertigini oggettive, le dette periferiche, e le condizioni non oggettive che possono essere, perché intendiamo per oggettive le condizioni periferiche unilaterali, le non oggettive diciamo sono quelle disarmoniche. Ok, allora, andando avanti, qua per quanto riguarda l'insorgenza della vertigine possiamo avere una vertigine parossistica o transitoria, una vertigine acuta, una vertigine cronica, dove quella parossistica transitoria dura pochi secondi, barra minuti, quella acuta dura poche ore, pochi giorni, quelle subcontinue perdura per alcuni giorni, anche se non continuamente, questa è la subcontinua, invece la cronica è per periodi lunghi, e questa è la prima. Poi, quindi qui abbiamo la classificazione del vertigine, dopodiché in funzione del numero di episodi, quindi noi abbiamo in funzione del numero di episodi delle forme a crisi singola o delle forme a crisi ripetuta, per esempio, quelle a crisi singola di tipo oggettivo possono essere la deafferenziazione vestibolare, che è un danno iatrogeno, irreversibile, l'anevrite vestibolare, che può essere diatrogena o traumatica, le condizioni invece a crisi multipla sono idrope e canalolitiasi, perché? Per una condizione di riacutizzazione di una forma cronica, che è la condizione di base. E quindi, quando studieremo le varie, diremo questa cosa. Nella modalità di risoluzione, noi abbiamo delle forme rapide e delle forme graduali. Dal punto di vista patogenico, ciò che consente di differenziare è il tipo di lesione labirintica, le forme a ripresa rapida o graduale. In caso di deafferenziazione labirintica e reversibile che ha crisi singola, la regressione è correlata all'instaurarsi del compenso, quindi a scomparsa e progressiva. Quindi, per esempio, la deafferenziazione è progressiva. Viceversa, nella restituzione ad integrum, in caso di sofferenza acuta seguita dalla restituzione ad integrum funzionale, la scomparsa e immediata non appena cessa la sofferenza, quindi nelle rapide, nel discorso di restituzione ad integrum. Quali sono poi i sintomi associati alla vertigine? Tra le condizioni associate, noi abbiamo l'ipoacusia, che può essere legata a un danno labirintico, retrolabirintico, per la vicinanza tra l'acustico e gli organi vestibolari. Nelle forme centrali, invece, è per le lesioni del tronco cerebrale, che interessano i nuclei vestibolari, quindi avremo ipoacusia per lesione ai nuclei vestibolari del tronco encefalico, oppure per contiguità tra lesione labirintica o retrolabirintica e nervo vestibolare. Poi, altri sintomi, la presbiacusia, poi acufeni, poi l'ipoacusia può essere, può precedere la crisi vertiginosa, poi che altro abbiamo? Senso di pienezza auricolare, ok, autofonia, mai perdita di coscienza, poi sintomi visivi, sintomi motori, sintomi sensitivi, e poi abbiamo i sintomi del sistema nervoso autonomo, quindi avremo condizioni di nausea, vomito, tachicardia, variazioni di pressione, quali sono le condizioni che in qualche maniera possono essere a rischio, sono le attività lavorative, poi i farmaci, le infezioni, i barotraumi o interventi chirurgici, l'ipo o ipertensione da trattamento, e poi ansia e disturbi, psichiatrici, quindi nell'introdurre le vertigini ci siano un'idea generica, ce la dobbiamo fare, ce la siamo fatta, adesso passiamo al test, a tutti i test che vengono fatti nelle vertigini, dove cercherò di, almeno elencarli, più che stare a spiegarli tutti quanti, quindi test per le vertigini, quest'è la sedici, allora, il primo è il bedside examination, allora, bedside examination, allora, noi facciamo il nystagmo in primis con gli occhiali di Bartels o Frenzel, il nystagmo lo possiamo studiare anche con l'elettronystagmografia, videooculografia, poi altri studi che noi andiamo a fare sono i test per l'ipoacusia con diapason, quindi di Rennie e di Weber, poi facciamo i test sulla simmetria del tono muscolare toracoscheletrico, toracosegmentario, scusate, e qui si fa fondamentalmente il Romberg, che è uno, ma non esiste solo quel Romberg, perché il Romberg ha come forma più sviluppata del Romberg la posturografia, posturografia con stabilogramma, dopodiché, oltre a questi, noi facciamo i nystagmi da posizionamento verticale e orizzontale, allora, nelle condizioni orizzontali, quindi canale semicircolare laterale, andremo con la Pagnini-Mecluer, voglio vedere se ho letto bene i nomi, che a saperli i test risorti, la Pagnini-Mecluer, ok, mentre l'altra tecnica che usavamo era il Dixalpike test, un'altra metodica che viene solo citata dal professore, è la Cat-Zar-Cass, Cat-Zar-Cass, che è un istagmo parossistico posizionale, torsionale, verticale, in basso dall'interessamento del canale semicircolare, quindi questo, il canale semicircolare laterale, questo per il canale semicircolare posteriore, Cat-Zar-Cass per il canale semicircolare, anteriore o superiore, ok. Quando noi non possiamo fare queste tecniche, abbiamo per esempio LED, pitch test, dove il paziente fondamentalmente sta in piedi, perché non può stare seduto, quindi questa è una forma di evoluzione. Dopodiché abbiamo LED Shaking Test, poi abbiamo LED Impulse Test, che si evolve in Video Head Impulse Test, e SHIP, che è il Suppressive Video Head Impulse Test, e dopo, vediamo che altro sta, poi sta la Skull Vibration, che questa è la manovra vibratoria, la Skull Vibration Induced, in Stagnus, che è detta anche Mastoid, stessa cosa di prima, poi abbiamo la prova di iperventilazione, continuando, abbiamo la prova di iperventilazione, dopodiché c'è la prova calorimetrica, e poi abbiamo la Simultanea Ice Test, poi abbiamo l'Ocular Tilt Reaction, dove noi andiamo a vedere appunto quell'anomalia nei bulbi e tutto, dove riposizioni poi la testa del paziente, per le problematiche legate per esempio a tipi di vertigini vestibolo visive, e quindi si fanno i Visual Acuity Test, per vertigine vestibolo visiva, guardate un po' che non finiscono i termini che stanno dietro a sta Roma, dopodiché prove termiche, prove ad impulso rotatorio, quindi le prove roto-acceleratorie stanno insieme con il video head impulsive test, quindi prove roto-acceleratorie, queste non me le ricordo proprio, le dovrò ripetere, dopodiché quali altri test rarissimi, superfichissimi, tutto quanto quello che volete stanno ancora da fare, i Visual Vertical, Visual Vertical soggettiva, Dopodiché c'è altro, i Potenziali Evocativi, queste sono tutte le tecniche usate nello studio delle vertigini, che adesso io per ogni tecnica mi rimando direttamente al libro e alle sbobbine, perché altrimenti il cervello va in tilt a scrivere tutte queste cose, quindi mettiamoci come ci dobbiamo mettere e facciamo questi test, facciamo questa spiegazione su queste tecniche, in primis la valutazione del nistagmo, uno lo fa o con l'elettronistagmografia o con la videooculografia, qua si studia il nistagmo per identificare gli aspetti qualitativi e quantitativi del nistagmo, e si classifica il nistagmo in nistagmo tipo 1, quando i bulbi sono ruotati verso il lato in cui è diretta la fase rapida, quindi sono diretti verso il lato in cui è diretta la fase rapida, quindi che è omolaterale diciamo al problema, grado 2 sono che guardano in avanti, quindi posizione fissa, grado 3 quando invece guardano verso il lato in cui è diretta la fase lenta, quindi possono guardare o durante la fase rapida e quindi sono condizionati, oppure durante la fase lenta. Adesso, per quanto riguarda la relazione con le assimmetrie segmento torace, che qua si fa la prova di Romberg, dove si mette il paziente su questa ad occhi chiusi, e si vede le oscillazioni che presenta, ovviamente sono importanti le oscillazioni, quelle indifferenti in avanti o indietro, o non condizionate della vista, sono un problema specifico del sistema nervoso centrale. si può fare o il test eretto, il paziente con le braccia lungo i fianchi, si vede un attimo ad occhi chiusi, diciamo, tende a cedere verso il lato colpito, altrimenti è una forma centrale, quindi io qui faccio già una diagnosi differenziata tra forme centrali e forme periferiche, quindi per esempio un Romberg atipico, mentre qui abbiamo un Romberg tipico. Tornando un attimo, Invece per le Dixalpike, Dixalpike è Dixalpike per le manovre di Pagnini-Mecluor o Cat-Zarcas, queste sono specifiche per i canali semicircolari, quindi la Dixalpike porti il paziente rapidamente dalla posizione seduta alla posizione supina, con il capo iperesteso e ruotato verso il lato, il paziente viene posto con le spalle allineate al margine del lettino, vabbè, insomma, questo dovrebbe stimolare il problema, è ruotato di 45 gradi, quindi il paziente sta così e passa subito dalla posizione supina alla posizione seduta, alla posizione da seduta a supino, scusatemi. Qualora non si riuscisse a registrare in istagmo, il paziente viene tenuto con gli occhi aperti, la comparsa è in istagmo caratterizzato da latenza e esauribilità, accompagnato da vertigine oggettiva e patognomonica di quella parossistica posizionale da canalulitiasi. Dopo un adeguato periodo di tempo, al fine di attendere le manifestazioni, il paziente viene riportato rapidamente in posizione seduta, qualora dovesse avere una vertigine prima, diciamo, ancora di... Ah, quindi in caso di canalulitiasi, noi avremo un istagmo diverso rispetto alla posizione seduta, rispetto alla posizione stesa, quindi questa è la cosa che ci interessava di più. La Dixalpike, la Pagnini-Meclure, la CAT-ZAR-CAS, sono tutte tipi di manovre periferiche. Se dovesse comparire vertigine soggettivo, disequilibrio senza anistagmo, in ortostatismo, vuol dire che è una forma centrale, quindi ortostatica per una Dixalpike atipica, senza anistagmo. Ok. Per quanto riguarda invece l'head shaking test, il capo del soggetto è flesso di 20 gradi, è ruotato alternatamente a destra e sinistra di 45 gradi per 20 volte in 10 secondi, gli occhi sono chiusi, indossano gli occhiali di Frezel, poi dopo di che si riaprano in caso di asimmetria funzionale, si noteranno delle condizioni di almeno tre scosse di anistagmo, perché si attiva il Velocity Storage Score, che amplifica il meccanismo dei movimenti in poco tempo, nelle lesioni bilaterali per esempio non si dovrebbe vedere nulla, invece in una condizione di head shaking test che guardo verso l'alto è una problematica che si sa nel colso centrale, invece qui l'head shaking test deve avere tre scosse di anistagmo, quindi sto cercando di fare le differenze. L'head impulse test invece, anche qui il paziente esegue passivamente, quindi non è il soggetto che gli fa fare questo, cioè no no, anche qui è passivamente, come prima per l'head shaking test, il paziente deve tenere fisso lo sguardo, nel soggetto normale questo riflesso fa in modo che la mira sia presente, in caso di deficit periferico il paziente non riesce a mantenere lo sguardo fisso, per cui alla fine del movimento farà la sacca decorrettiva, che non consente di fissare nuovamente la mira di riferimento, la presenza di sacca decorrettiva è un problema del deficit vestibolare verso il lato il quale è stato eseguito in movimento. Quindi, head impulse test, anche questo periferico, tra parentesi, ah ecco un altro sintomo che non avevo messo, la sudorazione fredda, la sudorazione fredda o agida. è ok. mamma mia, oh ma sto cazzo di... ah vabbè, gli occhiali miopizzanti sono occhiali a 20 diottrie che inducono la miopia così da ridurre la fissazione e in qualche maniera non inibisce nistagmo, col diapasone invece è un discorso di danno vestibolare, il vibratore, il cervello attivato che non so che cos'è, non l'ha citato il professore, poi la meclure rispetto all'alpaiche è diversa, cioè paziente in posizione supina muove la testa a destra sinistra, quindi non è che è posizionale di cambiamento. Se hanno due forme, la geotropa e l'apogeotropa dove nella geotropa il capo guarderà per terra, nell'apogeotropa in nistagmo invece sarà verso l'alto, questo lo vedremo meglio con la canalo litigliasi, anzi, ne approfitto per andarlo a leggere così lo rendiamo più specifico in spiegazione, perché queste sono manovre liberatorie come la Dixalpike e la Semont. Allora, questa è la Dixalpike, e la Pagnini Meclure invece è supino, viene fatto ruotare la testa da una parte all'altra, in presenza di canali litigliasi, la manovra evoca bilateralmente, anche se con intensità differente, una vertigine oggettiva parossistica, con nistagmo orizzontale che può avere una direzione geotropa o apogeotropa, quindi anche qui la Pagnini Meclure, che è appunto quella fatta sul canale semicircolare laterale. Il lato sede della malattia è quello in cui nistagmo è più intenso nella forma geotropa, invece è quello meno intenso nella forma apogeotropa, quindi questa è una cosa ma non importante, importantissima, che io mi rogresso, appunto, geotropa, nistagmo, lato, malato, più intenso, invece nella geotropa. Nell'apogeotropa l'istagmo nel lato malato è meno intenso, perché noi induciamo un istagmo bilaterale. Ok, bene, quindi anche questa l'abbiamo fatta. L'head impulse test abbiamo anche spiegato anche questo per le problematiche che ha, prima di passare a quelle che sono delle tecniche strumentali, spieghiamo la vibrazione, questo è il discorso proprio di una stimolazione che ha una buonissima sensibilità, che però qui comunque è stata spiegata come al cavolo, cioè metti questo strumento di vibrazione mandibolare, mastoidea, in caso di asimmetria si avrà nistagmo orizzontale persistente e ripetibile. Nei confronti dovrebbe essere del lato sano, quindi nistagmo compare per la vibrazione, verso il lato sano, ok, quindi nella periferica, la scul vibration induces nistagmus, o mastoide vibration induces nistagmo, sono verso il lato sano, ok, bene, dopodiché abbiamo la prova dell'iperventilazione, che è una prova centrale, dove indurremo il nistagmo, e verso il lato malato, allora, quando ho spiegato il neurinoma tra le condizioni di ipocusia centrale, nistagmo lato malato, negli appunti dove parlo del neurinoma, devo scrivere che questa prova è nistagmo per deficit di conduzione verso il lato malato, ok, bene, tornando a noi, quindi abbiamo fatto anche quella da iperventilazione, dopodiché, delle altre prove noi abbiamo la prova calorimetrica, dove si stimola principalmente il canale semicircolare laterale con la calorimetrica, praticamente si mette dell'acqua a temperatura differente da quella corporea, si può fare una prova a caldo a freddo, in quella a caldo avremo una stimolazione, invece a quella fredda avremo una riduzione, almeno così mi ricordavo io, per le correnti endolinfatiche, ora vedo un attimo di capire questa cosa, il caldo appunto era eccitatorio, lo stimolo freddo invece era una flessione utriculifuga, quindi inibitorio, caldo stimola freddo inibisce, mentre la stimolazione termica in soggetto normale induce una transitoria sindrome vestibolare armonica periferica, deficitare o irritativa in relazione al tipo di stimolo utilizzato, quindi a caldo sarà una vertigine irritativa, a freddo una vertigine deficitaria, il soggetto durante la prova cosa fa? Posiziona e posto in posizione su pina con capo flesso a 30 gradi, seduto poi con capo esteso a 60 gradi, quindi da flesso ad esteso, subito dopo si fa nel corso testo l'osservazione o con gli occhiali o con l'elettro oculografia o elettronistagnografia si valutano i potenziali quantitativi, quindi latenza, durata, frequenza, ampiezza, velocità della fase lenta, scriviamo tutte queste cose. Parametri quantitativi latenza, durata, frequenza, ampiezza, velocità fase lenta, un attimo solo, scusate. di un attimo di ci ecco, è un attimo Grazie. 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 Questi sono gli aspetti quantitativi, invece quello che ci interessa valutare... Quindi qui avremo una lesione centrale nella calorimetria per impossibilità a tenere la mira. Le alterazioni qualitative sono caratteristiche delle forme centrali, quindi alterazioni qualitative, quindi movimento coniugato degli occhi, poi la forma, la direzione, il ritmo, il nistagmo, tutte queste cose. L'esito quantitativo delle prove termiche è riassunto quindi in queste possibilità. Nella forma normale non esiste asimmetria o direzione del nistagmo, l'intensità è evocata e nei limiti della norma. Nel deficit bilaterale non c'è asimmetria, ma l'intensità indotta da stimolo è bilateralmente inferiore a quella normale. Nell'iperreflessia invece è superiore. Nella prevalenza di un lato sarà appunto asimmetrica. Nella prevalenza direzionale sarà a carico che si sia nel bus centrale quando avremo direzione verso l'alto del nistagmo. Dopodiché abbiamo il, e questo è finito, il videohead impulsive test, dove Nell'head impulsive test digitale si studia appunto il riflesso vestibulo oculomotore, dove si noterà appunto questi movimenti saccadici correttivi che saranno divise appunto videohead impulsive test, questo avrà delle saccadi che saranno dedicati, saranno di tipo overt, quindi alla fine, e questa è una cosa che si studia con l'esuppressive nistagmus test, l'esuppressive head impulsive test. Invece avremo delle saccadi covert durante la prova, in questo caso si vede col videohead impulsive test. Le saccadi overt hanno un significato, come dire, di riserva funzionale, le saccadi invece covert no, sarà un danno importante. Ok, allora. Quindi così si studiano i canali semicircolari laterali, ok. Ok. Vabbè, invece le prove roto-acceleratorie, è come l'head impulsive test praticamente, ma il paziente è seduto su una sedia mobile. E da qui si valuterà un guadagno bilaterale nella norma, un deficit bilaterale, un'iperreflessia bilaterale, una prevalenza di lato, alterazioni morfologiche tipiche delle lesioni centrali, quindi qui, alterazioni qualitative. Ok. Ma la stantezza che c'ho addosso, ragazzi, mamma mia. Oh, mio Dio. La posturografia è come il Romberg, identico, si studia il baricentro. Adesso vediamo un attimo la posturografia. dove c'è questo stabilogramma che misura le variazioni del baricentro, che ad occhi chiusi, con una peggioramento ad occhi chiusi, è riconducibile a una sofferenza periferica non compensata. Quindi, sofferenza periferica non compensata, ad occhi chiusi. Invece, quando avremo ad occhi aperti il problema, la sala desistica nel bosso centrale. Esiste anche il discorso della posturografia dinamica, dove si muove questa, come dire, questa pedana, che non mi veniva il termine. Mi sto esaurendo. Poi, i potenziali evocativi, diciamo dopo, lo studio della verticalità soggettiva, in realtà, è per le forme verticali soggettive, quindi centrali, quindi che si fa con il telefonino, mettendola al centro del secchio, internamente, una riga, allineando questa riga con il telefono esternamente, vabbè, rotando questo secchio potremo vedere la variazione angolare dell'orientamento del paziente, vabbè. Quindi, il VVS è per le lesioni del sistema nervoso centrale, che vi ho spiegato malissimo, perché sono stremato, si mette sto secchio, nel fondo del secchio si mette il telefonino, il paziente lo guarda e si muove, se c'è un danno vestibolare unilaterale c'è un'inclinazione di 10 gradi, bilaterale non c'è nulla, se il paziente ha una neorectomia vestibolare, quindi un danno di deafferenziazione, l'inclinazione persiste anche dopo anni, perché è irreversibile, se ha l'abirintectomia con gentamicina, dopo un anno si ritorna alla normalità. Nella Menier la deviazione è marcata in acuto, se trattata con gentamicina. Quindi abbastanza importante per le neorectomie e per le Menier. Neorectomie e Menier. Infine abbiamo i potenziali evocativi, che questi diciamo che ci permettono di identificare problematiche centrali, ci permettono di studiare tutti i recettori, i tre ampollari e i due maculari, cioè i tre canali colari e poi utricolo e sacculo, e da lì si valuta appunto il tipo di danno che c'è stato. Si studiano anche le contrazioni dei muscoli cervicali, per vedere quel tipo di vertigine magari anche da da cervicalgia. Abbiamo chiuso con tutti questi argomenti, basta, sono stancato. Ora mi devo prendere una lunga pausa e poi riattacco a fare le vertigine. Allora, eccomi qua. Mi sono messo lunghi tappi per le orecchie, per non sentire tutti i rumori di sottofondo, che ha una certa... ti congestionano. Facciamo ste vertigini oggettive. Abbiamo mezz'oretta di tempo, speriamo di farcela in questo tempo giusto. Allora, tra le condizioni delle... No, non so se queste trascriverle, perché sono scritte proprio bene. Le singole vertigine le vedo direttamente dal libro. Allora, ragazzoli e ragazzone, cominciamo, cominciamo. Tra le patologie dell'equilibrio noi riscontreremo delle condizioni che sono centrali e condizioni periferiche. Le condizioni centrali e periferiche non sempre sono responsabili dello stesso tipo di vertigine, tant'è vero che ci sono condizioni periferiche da vertigine oggettiva, ma anche condizioni periferiche da vertigine non oggettiva, come per esempio le forme vestibolari periferiche da deficit vestibolare bilaterale. Così come stanno anche altre condizioni, come le lesioni occupanti spazio dell'angolo pontocerebellare, l'ototossicosi, l'otosclerosi. Queste sono delle forme che possono dare delle vertigini non oggettive. Poi stanno le forme extravestibolari, croniche, la presbistasia e presbiastasia, e le vertigini parossistiche infantili. Poi stanno una serie di vertigini di ogni tipo che non tratterò perché non sono in esame, ve le ho già spiegate, magari farò una video lezione dopo l'esame sperando di averlo passato, ma ho già comunque registrato queste forme quindi avrete le spiegazioni. Noi oggi ci concentriamo sulle vertigini che sono puramente di interesse otorino-laringoiatrico, principalmente audiologico. Allora, abbiamo le vertigini che sono caratterizzate da una crisi singola, queste dovevano essere la nevrite vestibolare, la birintopatia traumatica, la birintite, la birintopatia di altrogena, poi sono quelle a crisi ripetute, la malattia di Meniere, la sindrome di Minor, la canalolitiasi, non si chiama più cupololitiasi, la fistola perilinfatica e la birintica. Allora, cominciando, cominciando, perché altrimenti non ce la lasciamo. La birintopatia traumatica, allora, no, scusate, nevrite vestibolare. La nevrite vestibolare è una condizione in cui noi abbiamo un deficit vestibolare acuto, è una condizione con crisi vertiginosa singola che dura, che esordisce in modo improvviso e spontaneo, persiste per oltre 24 ore e si associa poi a determinati sintomi che vedremo. Allora, in primis, questa condizione a livello di patogenesi riscontra una maggior parte di casi come forme idiopatiche, poi si pensa che siano condizioni virali legate a flogosi delle alte vie aeree, a un herpes riattivato da un deficit immunitario. C'è un'altra ipotesi di natura vascolare tromboembolica dove è venendo colpita l'arteria uditiva interna, si ha anche un difetto con sordità improvvisa, come nel caso delle vertigini associate a neurinomi del settimo nervo, del facciale. Poi abbiamo, ah no, scusatemi, dell'ottavo nervo acustico. Poi ci sono vertigini di questo tipo che hanno una modifica repentina, unilaterale, nella maggior parte dei casi sono di tipo deficitario, quindi parleremo di vere e proprie paralisi secondo alcuni autori, che vanno incontro a restituzione ad integro nel giro di alcune settimane o mesi, oppure se il danno rimane in modo irreversibile compensa vestibolare. A livello anatomo patologico si possono riscontrare o condizioni di ischemia per una tromboembolia, o condizioni di labirintite batterica virale, quindi per quel caso che ci sia una flodosi. Per la sintomatologia è una vertigine intensa, è una vertigine acuta, è una vertigine che compare all'improvviso, il paziente è costretto a stare a letto dal lato sano, è una vertigine che dura 24-48 ore, è una vertigine che fa incontro a restituzione ad integron dopo tantissimo tempo, è raramente, raramente. Ci sono delle condizioni di nevrite vestibolare recidivante, e qui infatti si parlerà di nevrite ricorrente benigna, così come ci sono, secondo alcune esperienze cliniche, condizioni di vertigine parossistica associata a questa vertigine oggettiva, quindi una vertigine soggettiva con la parossistica, la cosiddetta sindrome di Linsday-Emway. All'esame obiettivo sarà evidente il nystagmo, nelle fasi successive si possono evidenziare solo alterazioni del tono posturale, quindi vuol dire che il nystagmo dopo un po' si normalizzerà. A livello audiometrico vedremo nel caso di una nevrite dell'ottavo nervo, quindi con un danno da sordità improvvisa, avremo questo stato di anacusia che tende a colpire le basse frequenze. Poi abbiamo le prove vestibolari. Con le prove termine, termiche o video head impulsive test, noi riusciamo a identificare la presenza della lesione, l'entità della lesione unilaterale. Col video head impulsive test si cerca anche di identificare quale canale semicircolare o quanti, nel caso sia più di uno, siano interessati. Infatti, noi potremmo avere una condizione di nevrite vestibolare superiore e inferiore in funzione del danno del nervo vestibolare superiore e inferiore, dove quello superiore è caratterizzato tra l'innervazione di quello che è l'utriplo, il canale semicircolare superiore, detto anche anteriore, laterale, mentre quello posteriore insieme alla macula è innervato dal nervo vestibolare inferiore. Ci possono essere quindi questo tipo di condizioni, le prove rotoacceleratorie, quindi quelle sulla sedia che si muove, ci permette di identificare anche qui il deficit, un deficit che poi per il meccanismo di compenso quando irreversibile, appunto, dopo un po' si normalizzerà. Anche la posturografia tenderà a normalizzarsi anche se in realtà si potranno evidenziare nelle fasi successive della malattia, come ho detto anche l'esame obiettivo alterazioni del tono posturale. Gli esami radiologici sono importanti per escludere le condizioni di patologie che invadono l'angolo pontocerebellare. Per la terapia ci sono, per quei sintomi neurovegetativi, quindi una terapia sintomatica con vestibolo plegici come le feniotiazine, si può ricorrere anche all'uso di cortisone nella fase acuta per evitare il rischio di persistenza del deficit. Il compenso vestibolare può essere coadiuvato dalla betaestina, dal piracetam o da sostanze neurotropiche. Nel caso in cui il compenso non riesca a manifestarsi spontaneamente, si deve fare una terapia riabilitativa. Quindi, per la terapia che lo ripetiamo, le feniotiazine sono vestibolo plegici, il cortisone nella forma acuta per evitare la persistenza della patologia, la betaestina, il piracetam e sostanze neurotrofiche per stimolare il compenso che se non dovesse venire si fa la riabilitazione vestibolare. Dopodiché abbiamo la labirintopatia traumatica che io posso tranquillamente bypassare. Poi abbiamo la labirintite che in realtà è una delle complicanze delle otiti medie. È una complicanza abbastanza rara perché significa che c'è stato un danno che ha portato a contatto l'orecchio medio con l'orecchio interno dando queste infiammazioni dell'orecchio interno. Per esempio una forma di otite media cronica colestiatomatosa può determinare questo e sobraggiunge questa vertigine. Una vertigine che in teoria diciamo potrebbe anche portare a una successiva complicanza meningea o batteriemica per la diffusione rispettivamente con il liquor e con il sangue. La sintomatologia sarà una vertigine associata appunto acuta come nella nevrite vestibolare. In caso di sofferenza cocleare in presenza di otite cronica si aggraverà il preesistente deficit uditivo. Quindi diciamo che non aiuta. All'otoscopia si vede la flogus chiaramente della colestiatomatosa quindi si vedranno si vedrà l'issudazione si vedrà si vedranno le croste di epitelizzazione si vedrà la perforazione timpanica si vedranno queste lesioni si vedrà l'infiammazione. All'audiometria il deficit quindi sarà misto sia neurosensoriale che trasmissivo che anacusia. infatti questi pazienti rischiano di avere crisi vestibolari se si dovesse introdurre dell'acqua. Le prove termite infatti non si possono fare con la presenza di flogosi le prove rotoacceleratori identificano il danno però per meccanismi di compenso tendono a normalizzarsi l'esame invece posturo grafico anche qui si normalizzerà con l'andamento della patologia gli esami radiologici servono per identificare eventualmente la presenza se c'è stata una complicanza come una fistola labirintica se c'è stata quindi un danno di una osteite capsulare labirintica se c'è stata un'infiammazione esterna quindi all'osso temporale insomma è utile da questo punto di vista la terapia antibiotica è molto importante i vestibolo plegici come la fenotiazina è importantissima la timpanoplastica o meringoplastica per le condizioni legate all'osteite all'otite media colesteatomatosa nelle fasi successive se non dovesse comparire poi il compenso si andrà incontro a una terapia riabilitativa la forma iatrogene è quella da deafferenziazione anche questa crisi singola può essere secondaria a stapedectomia o stapedotomia questa è una condizione che noi potevamo avere come intervento chirurgico quando avevamo l'otosclerosi praticamente oppure può essere secondaria a una timpanoplastica in questo caso ci troviamo questa condizione questa questa problematica ci sono anche condizioni magari come neurectomie labirintectomie che possono determinare questo danno a livello sintomatologico sarà una vertigine oggettiva sarà una vertigine intensa si potrebbe manifestare al risveglio postoperatorio o durante l'operazione o a un mese dall'operazione dopodiché parliamo della patologia di Meniere questa è una idrope endolinfatica è una condizione responsabile di una triade cioè un'ipoacusia neurosensoriale fluttuante associato a vertigine non oggettiva scusatemi oggettiva e acufemi è una condizione abbastanza infrequente nell'età giovanile tranne per quelle che sono forme autoimmuni a trasmissione ereditaria perché di solito è una condizione che colpisce pazienti sopra i 45 anni a livello anatomo patologico c'è questa idrope che chiaramente sarà responsabile di un danno compressivo delle membrane del labirinto membranoso ma questo perché tra le ipotesi si pensa a un'ipotesi di patogenesi perché la maggior parte delle volte è idiopatica che sia o di natura post-traumatica o iatrogena o per una disseminazione per una scusatemi disembriogenizzazione quindi un problema di organificazione durante la crescita del bambino la vertigine può essere nei casi in cui ci sia una problematica di questo genere potrebbe essere bilaterale nelle forme congenite è sporadica è ritardata se compare in seguito a un deficit uditivo non su base idropica è familiare associata a emicrania patologia autoimmuni tra i fattori favorenti ci sono fattori che ostruiscono il dotto indolinfatico quindi quel dotto che sarebbe l'acquedotto di Sil l'acquedotto che collega la perilinfa con la un attimo perché sono andato in confusione l'acquedotto della chioccia è quella che fa comunicare la perilinfa con lo spazio sub liquorale della fossa cranica cerebellare l'acquedotto del vestibolo invece con la cavità cranica voglio dire che un'ostruzione del dotto indolinfatico o una disfunzione del sacco indolinfatico perché è poco pneumatizzata rocca petrosa perché c'è una condizione di sacco piccolo fibrotico può peggiorare questa condizione malformazioni dentro l'orecchio presenza di lesioni occupanti spazio molto molto poco comune come condizione e i fattori scatenanti che possono quindi riacutizzare la patologia sono i traumi cranici l'affaticamento lo stress l'intervento chirurgico all'orecchio condizioni climatiche quindi nel cambio tra inverno e primavera per la sintomatologia io mi rifaccio alla triade classica quindi abbiamo un'ipoacusia fluttuante neurosensoriale abbiamo una condizione poi di acufeni e di vertigine oggettiva in realtà per quanto riguarda l'ipoacusia quello vedremo nell'audiometria meglio è una curva che si dice assalita in alcuni casi si dice appesa per le frequenze intorno alle 2000 Hz ci sono delle varianti della sindrome di Meniere dove c'è un'idrope ritardata quindi si diceva appunto ritardata quella condizione che era in seguito a un deficit uditivo grave non su bassa idropica ed è ritardata o ipsilaterale o controlaterale poi c'è la forma premestruale di Oreser poi la forma di Tumarkin che è la forma diciamo terminale della Meniere e questa è molto pericolosa per il rischio di cadute che il paziente ha poiché il paziente perde il meccanismo i segni premonitori della caduta per quanto riguarda la diagnosi della problematica di Meniere ci si affida a quella che è la Barani Society del 2015 che ha stilato delle linee guida di diagnosi queste linee guida della Barani Society sono avere due o più episodi di vertigine che durano dai 20 minuti fino alle 12 ore 24 ore anche ci devono essere delle condizioni di deficit con ipoacusia neurosensoriale che è o precedente o successiva o durante la problematica vertiginosa e i sintomi poi uditivi fluttuanti l'ipoacusia l'ovattamento l'autofonia il senso di pienezza auricolare la fullness e questa è una diagnosi definitiva di Meniere per quanto riguarda gli esami strumentali abbiamo quindi un deficit strumentale audiometrico accentuato alle medie e basse frequenze nelle prime fasi della patologia che però poi interessa anche i toni acuti quindi diventa pantonale quindi avremo un deficit abbastanza alto per le basse frequenze e medie frequenze l'elettrocochilografia quindi con elettrodi che si mettono in modo peritimpanico e vicino al promontorio della membrana timpanica ci permettono di di studiare il potenziale d'azione e vedere la sua variabilità un potenziale d'azione che va incontro ad aumento di 0,31% quindi si evidenzia questa variazione di intensità successiva allo stimolo le prove vestibolari termiche sono normali finché poi la patologia non si manifesta in modo unilaterale a livello radiologico si escludono le condizioni di malattie occupanti spazio con risonanze magnetiche con tre tesla quindi abbastanza potenti si riesce a identificare l'anomalia del liquido per il linfatico per quel che riguarda le altre anomalie audiometriche abbiamo per esempio un abbassamento che noi dobbiamo considerare per esempio nella protestizzazione nel recruitment per un danno vero e proprio cocleare per cui si abbassa anche la soglia del dolore così come si abbasserà anche la soglia del riflesso stapediano a livello terapeutico possiamo avere quindi dei vestibolo plegici tra cui maggiormente le fenotiazine poi ci sarà una fase quindi uditiva vestibolare poi c'è una fase scusate acuta vestibolare e si faranno i vestibolo plegici nella fase uditiva si rimanda al capitolo della sordità improvvisa dove diciamo mi sa che qui si va di glicerolo e glucocorticoidi per la fase invece intercritica si consiglia una dieta iposodica diuretici per bocca per cicli prolungati cicli di beta estina che sono diciamo fondamentali per il meccanismo di compenso e terapia steroidea che in qualche maniera dovrebbe controllare maggiormente la vertigine rispetto al trattamento con gente amicina tant'è vero che qui se fai il virtual visiting index score dove vai a studiare la verticalità soggettiva persiste per un anno quel trattamento con gente amicina è chiaro che ci possono essere anche dei modi per ripristinare la condizione attraverso una deafferenziazione vestibolare con l'abirintectomia chimica con neorectomia vestibolare o l'abirintectomia chirurgica però questo chiaramente c'è il rischio che la patologia in questa maniera non venga più che altro tutelata perché tu così vai a danneggiare il tutto fai un danno per ripristinare l'equilibrio con un meccanismo di compenso passiamo all'argomento successivo che sono le cupolo litiasi no canalo litiasi prima si chiamavano cupolo litiasi perché si pensava che fossero gli otoliti depositati sul versante utricolare della cresta ampollare del canale semicircolare posteriore mentre adesso si pensa che essi siano nel versante canalicolare per questo canalo litiasi del canale semicircolante posteriore questi otoliti sono porzioni di carbonato di calcio che sono responsabili con il loro movimento dello stiramento della cresta ampollare che stimola le cellule ciliate a mandare il segnale si è visto che questa è una patologia rappresentata da una vertigine ricorrente anche questa è una vertigine con insorgenza questa fa parte di quelle con crisi multipla che è presente una certa esauribilità rispetto al movimento ha un istagmo la cui direzione è correlata al canale semicircolare che è stato danneggiato c'è una possibilità di recidiva molto alta per la canale olitia a livello eziologico si pensa sia una condizione idiopatica alle volte si pensa a una problematica di distacco di otoliti per trauma o in soggetti affetti da emicrania da meniere o per interventi chirurgici o per una nevrite vestibolare responsabile di una forma poi parossistica la sindrome di Linsday Hemingway in quest'ultimo caso sarà proprio un'ischemia dell'arteria uditiva interna responsabile di questo danno oppure una forma compressiva perché questa sordità improvvisa che noi avremo può essere associata anche quindi con anacusia anche se fosse bilaterale l'anacusia sia si chiamerebbe il cofosi anacusia significa che non senti niente da un solo orecchio se fosse invece un neurinoma dell'acustico anche qui potremmo avere sordità improvvisa ma è un'altra condizione legata alla nevrite vestibolare quindi questo è un deficit in sé c'è la possibilità di recidiva e si è visto in questi pazienti alti livelli di anticorpi antitiroide condizioni di ipocalcemia ipovitaminosi D quindi condizioni che riducono il calcio ok e siccome questi sono fatti di carbonato di calcio voglio dire c'è un legame forse fisiologico fisiopatologico a livello quindi di patogenesi la vertigine sarà innescata dai movimenti del capo il cambiamento per gravità determinerà del capo il movimento degli otoliti che determineranno una corrente endolinfatica con modifica funzionale in stato eccitatore inibitore in funzione della posizione dell'ammasso rispetto al recettore ampollare e quindi sarà una sindrome particolare caratterizzata da vertigie e nistagmo un nistagmo in questo caso noi nello studio del canale semicircolare laterale che può essere geotropo o apogeotropo dove il geotropo sarà quello diretto verso il pavimento perché indurremo un nistagmo bilaterale con la manovra di Pagnini McClure e in questa condizione ci sarà uno dei due lati che viene con un'intensità maggiore nella geotropa nell'apogeotropa quello con intensità maggiore non è come prima l'orecchio malato ma sarà l'orecchio sano quindi la sintomatologia l'abbiamo detto la durata media della sintomatologia vertiginosa che è parossistica che è acuta che è intensa che è inferiore ai 60 secondi dura come problematica non trattata fino a 15 giorni dopodiché abbiamo gli esami diagnostici con la manovra di Dixalpaik oppure la manovra di Semont che è una manovra liberatoria cioè il paziente sta con le gambe fuori dal lettino e si sposta rapidamente dalla posizione seduta alla posizione supina lateralmente con un primo caso in cui guarda verso l'alto con il collo comunque quindi flesso a 45 gradi nell'altro caso poi si mette con il collo guardando verso il basso ok il movimento verso il basso determinerà una vertigine liberatoria associata all'istagmo apogeotropo vabbè nella canale litia sì quindi qui stiamo nelle manovre del canale laterale perché nel posteriore ci sono invece le manovre di Paglini-Meclure oppure la manovra di Cufoni dove il paziente è seduto sul letto con gambe a penzoloni coriccato su un lato sano facendo di ruotare rapidamente il capo di 30 gradi verso il basso vabbè quindi gli esami strumentali indetermineranno con la prova termica il danno vestibolare omolaterale nella patologia gli altri esami saranno normali la terapia saranno le manovre vere e proprie liberatorie come per esempio la manovra liberatoria del barbecue di Lampert la proniosi diciamo che c'è una guarigione dell'80-100% dei casi anche se talvolta devono essere ripetute queste manovre liberatorie più volte ok dopodiché abbiamo la fistola perininfatica quindi una lesione a carico della membrana della fossa ovale e della membrana timpanica secondaria della fossa rotonda questa fistola sarà responsabile di un idrope ex vacuo chiaramente perché ci sarà una comunicazione con fuoriuscita di perilinfa ci sono condizioni traumatiche condizioni congenite ci sono situazioni da varotrauma implosivo o esplosivo quindi implosivo da schiaffo nell'orecchio per un aumento di pressione condotto uditivo esterno esplosive per un aumento di pressione condotto uditivo medio nell'orecchio medio per una manovra di Valsalva per esempio la sintomatologia sarà una sintomatologia con ipoacusia fluttuante un'ipoacusia improvvisa ci sarà una vertigine associata a instabilità di tipo oggettivo ci potranno essere quindi dei casi di perdita di equilibrio inspiegabile all'audiometria avremo un deficit neurosensoriale con le prove vestibolari e i VEMS vedremo una diminuzione della soglia dei potenziali d'azione e un aumento dell'ampiezza del segnale con l'elettro cocleografia vediamo un aumento del potenziale normale d'azione rispetto al potenziale soglia del 15% quindi audiometria prove vestibolari VEMS elettrococleografia la terapia di solito una spiccata guarigione spontanea ma qua la diagnosi non si fa con queste prove ma direttamente con la chirurgia andando ad aprire e a verificare quindi direttamente la problematica che bisogna chiudere o con colla biologica o con tessuto connettivo la fistola labirintica invece è diverso cioè non parliamo di una condizione di fistola perilinfatica che anche qui questa aumenta con il segno della fistola nella fistola labirintica praticamente c'è una lesione da continuo a carico della capsula labirintica quindi non a carico delle membrane della finestra ovale o rotonda ma proprio della capsula questa lesione di solito è secondaria come complicanza a un'otite cronica coleste automatosa di solito interessa più frequentemente o il promontorio ma prima ancora il canale semicircolare laterale poi c'è quello posteriore e superiore avremo quindi meccanismi parossistici di pochi secondi intensi di episodi di vertigine e si può indurre la vertigine anche premendo sul trago con il cosiddetto segno della fistola si vedrà un deficit di tipo misto le prove vestibolari non sono eseguibili per la patologia infiammatoria sottostante l'attack della rocca petrosa e delle mastoidi è importante per vedere la valutazione sia dell'otite cronica colestiatomatosa che dell'erosione della capsula ottica la terapia sarà una timpanoplastica d'urgenza per ridurre la propagazione della flogosi il fatto è che non sempre c'è una restituzione ad integrum quindi la soluzione da continuo potrebbe permanere il paziente potrà avere episodi transitori di vertigine e instabilità per quello che riguarda invece la deiescenza del canale semicircolare superiore detto anche anteriore questa è la sindrome di minor c'è una fistola per una mancanza acquisita o congenita a livello del canale semicircolare posteriore praticamente si verrà a formare una terza finestra oltre a quella ovale e quella rotonda ci si creano si creano quindi delle correnti endolinfatiche violenti questi pazienti infatti hanno intense stimolazioni acustiche riescono a svenire come il fenomeno di Tullio la pressione sul trago per il fenomeno del segno della fistola la manovra di Valsalba e alla vertigine si associa un'ipoacusia con l'audiometria si vedrà una problematica trasmissiva che interessa le basse e medie frequenze con un tipanogramma normale e un riflesso stapediale presente se è presente un danno neurosensoriale sarà per le alte frequenze con i VEMS si vede un abbassamento di soglia quindi potenziali vocaboli con stimoli anche inferiori questa è una diagnosi differenziale per esempio rispetto all'ottite catarrale e all'otosclerosi quindi come per la fistola labirintica noi avremo per la fistola del canis di cicloare superiore o sindrome di minor un aumento dell'ampiezza del potenziale d'azione e una riduzione dello stimolo di soglia l'attac della rocca petrosa e delle mastoidi ci permetterà di identificare questa deiescenza che poi in realtà vi dico fondamentalmente ci mostrerà anche eventualmente un danno col tegment impani che potrebbe mettere in rapporto questo con la cavità cranica sono stati proposti interventi di correzione e copertura del canale deiescente quindi con questo si chiudono anche le vertigini tutte queste belle condizioni e quindi niente siamo esattamente alle 16 e 30 adesso devo passare ad odonto quindi continueremo domani il resto del libro grazie a tutti